Ma perché dovrei aprire uno studio? Non posso semplicemente condividere gli spazi con altri colleghi? Scopriamolo! In un video precedente abbiamo parlato di pro e contro della scelta di mettersi in proprio. Se vi va di guardarlo vi lasciamo il link nella descrizione. Ci sono vari modi di mettersi in proprio, secondo diverse intensità. Si può aprire uno studio da soli o con altri. Si può entrare a far parte di uno studio altrui, nell'ambito però di un rapporto di collaborazione o consulenza connotato da autonomia, esclusi quindi i casi di collaborazione pura e semplice. Infine c'è la figura della condivisione di spazi. Condividere gli spazi è una scelta che in alcuni casi può risultare vincente, soprattutto all'inizio e per un periodo ben determinato della propria carriera, come step intermedio. Quanto ai vantaggi è evidente, risiedono soprattutto nella ripartizione di costi che si ritiene di non voler o poter sostenere da soli, con evidenti ripercussioni anche in termini di serenità personale. Talvolta si tratta proprio della scelta di vita con cui il giovane professionista spezza le catene e avvia una carriera propria, seppure senza assumere subito tutte le responsabilità di una struttura. C'è però anche un rovescio della medaglia, di cui è bene essere consapevoli, soprattutto se la situazione di condivisione da temporanea diventa permanente. Il problema di fondo è che condividere gli spazi significa in realtà non voler condividere altro che i costi. Se si volesse condividere qualcosa di più, infatti, si creerebbe uno studio unico, insieme. Viviamo in un momento storico in cui l'aggregazione tra professionisti è premiata dal mercato. Sempre più spesso le questioni presentano profili giuridici distinti che richiedono soluzioni rapide, il che depone in favore di un team multidisciplinare strutturato e non frammentato. Anche sotto il profilo del rischio dell'iniziativa, uno studio costituito da professionisti che operano in ambiti specifici, consente allo studio di essere anticiclico, ossia di non dipendere esclusivamente dalla performance di un unico settore in un determinato momento storico. Infine, per quanto si tenda ancora a sottovalutare l'impatto dell'immagine, non c'è dubbio che presentarsi al mercato sotto un unico nome, con un unico progetto, un unico stile e un team organico, costituisca l'opzione di gran lunga preferibile. Se si è da soli, alcuni clienti sono semplicemente irraggiungibili, prima ancora che ingestibili. Se tutto questo è vero, la scelta del professionista di condividere solo gli spazi rischia di veicolare all'esterno, nella migliore delle ipotesi, nessun messaggio, perché ai terzi non gli interessa sapere chi paga le bollette o se si fa a metà. Nella peggiore delle ipotesi, due messaggi negativi con innegabili conseguenze sui mandati e sulle relazioni, e cioè 1. Non c'è nulla che ci lega, tanto che nonostante siamo a una porta di distanza, non vogliamo presentarci insieme sul mercato. 2. Nessuno di noi è autonomo e autosufficiente. Ovviamente questi messaggi negativi potrebbero anche non rispondere affatto alla realtà, come accade in quei casi in cui non si fa un passo in più, cioè costituire un unico studio, o per principio, o per pigrizia, o per timore, o perché semplicemente non ci si è pensato. Insomma, presentarsi come studio mette in luce un punto di forza, la condivisione di un progetto, di un team, di uno stile. Rimanere coinquilini rischia di mettere in luce una debolezza, ossia l'assenza di un progetto, di un team, di uno stile. La riflessione finale, allora, potrebbe essere questa. Se si è già deciso di condividere gli spazi con un collega o con più colleghi, perché non creare un unico studio? Qui l'obiezione economica non regge. Un unico studio comporta solo vantaggi. Un solo sito, una sola targa, una sola brand identity, una carta intestata, un servizio di hosting, un solo profilo sui social media, un numero di telefono, fornitori unici, nessuna concorrenza in casa. Ma allora qual è il problema? Probabilmente uno di questi due. Uno, si vuole fare tutto da soli, legittimo ma rischioso. Due, non ci sono le condizioni per creare uno studio insieme ai propri coinquilini. Conclusioni, entrambe su cui è bene riflettere ulteriormente. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata ai giovani avvocati e ai praticanti. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.